Giuseppi e Martucci ma grande anche il lavoro del numero 10 intanto seguiamo Essabre che resiste alla carica del numero 4 ancora Essabre il taglio in mezzo non ci arriva il giocatore allora Vecchione la stoccata poi la parata di Lamantia tutto molto bello per la Juventus Cosentini che non si fa sorprendere adesso pallone per Esposito cerca il taglio e pallone che rimane ancora sui piedi di Simone Esposito entra in area e la botta ancora Lamantia ci mette la mano rivediamo dal replay splendida l'azione personale siamo sicuramente d'accordo con la camicetta nera seguiamo adesso la Juventus in questa azione in profondità D'Antoni non riesce a incrociare rivediamo dal replay bella l'azione in velocità D'Antoni aveva tutto lo spazio libero per battere a rete ha optato per ha optato per ha optato per